Vi diamo il benvenuto al programma cristiano dai nostri culti, registrazione di una predicazione della parola di Dio effettuata presso la Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia I primi 19 versetti Libro del profeta Daniele, capitolo 10 I primi 19 versetti Addio la gloria Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele Chiamato Baltazar La parola è vera e predice una grande lotta Egli fu attento al messaggio e capì il significato della visione In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per tre settimane intere Non mangiai nessun cibo prelibato, né carne, né vino Entrarono nella mia bocca e non mi unzi affatto sino alla fine delle tre settimane Il ventiquattresimo giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del grande fiume Che è il Tigri, alzai gli occhi Guardai ed ecco un uomo vestito di lino Che aveva ai fianchi una cintura d'oro di ufaz Il suo corpo era come crisolito La sua faccia splendeva come la folgore I suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante Le sue braccia e i suoi piedi erano come il rame splendente E il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine Soltanto io, Daniele, vidi la visione I uomini che erano con me non la videro Ma un gran terrore piombò su di loro E fuggirono a nascondersi Io rimasi solo A contemplare quella grande visione In me non rimase più forza Il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato E le forze mi abbandonarono Poi udì il suono delle sue parole Ma appena le udì Caddi assopito con la faccia a terra Ed ecco Una mano mi toccò E mi fece stare sulle ginocchia E sulle palme delle mani Poi mi disse Daniele, uomo molto amato Cerca di capire le parole che ti rivolgo E alzati Nel luogo dove stai Perché ora io sono mandato a te Quando egli Mi disse questo Io mi alzai in piedi Tutto tremante Egli mi disse Non temere, Daniele Perché dal primo giorno Che ti mettesti in cuore di capire E di umiliarti davanti al tuo Dio Le tue parole sono state udite E io sono venuto a motivo delle tue parole Ma il capo del regno di Persia Mi ha resistito ventun giorni Però Michele Uno dei primi capi È venuto in mio soccorso E io sono rimasto là Presso il re di Persia Ora sono venuto a farti conoscere Ciò che avverrà Al tuo popolo Negli ultimi giorni Perché è ancora una visione Che concerne l'avvenire Mentre egli mi rivolgevo queste parole Gli abbassai occhi a terra E rimasi in silenzio Ed ecco uno Che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo Egli mi toccò le labbra Allora aprì la bocca Parlai e dissi A colui che mi stava davanti Mio Signore Questa visione mi ha riempito d'angoscia Le forze mi hanno abbandonato E non mi è più rimasto alcun vigore Io, tuo servo Non potrei parlare con te O mio Signore Perché ormai non ho più forza E mi manca persino il respiro Allora colui che aveva l'aspetto d'uomo Mi toccò di nuovo E mi fortificò E gli disse Non temere O uomo molto amato La pace sia con te Coraggio Sii forte Alle sue parole Ripresi forza E dissi Parla O mio Signore Perché tu Mi hai Fortificato Fin qui La lettura Della parola di Dio Sicuramente Fratelli Sorelle Questa Ennesima esperienza Del profeta Daniele Fu Motivo Di crescita Di sviluppo Della sua Vita cristiana Tutti noi Conosciamo la storia Di Daniele E se Sfogliamo Le pagine Della Bibbia Ci rendiamo conto Come La vita Del profeta Daniele Fu caratterizzata Da esperienze Forti Da esperienze Belle Da esperienze Che In un primo momento Si sono presentate Al profeta Sotto forma Di prova Di avversità Come Quella Ad esempio Che leggiamo Al capitolo 1 Quando fu proposto Ai principi Deportati Da Gerusalemme Di consumare Le vivande Del re Fu una forte Tentazione Daniele Avrebbe potuto dire Qui non mi vede Nessuno Posso mangiarli Tanto siamo Lontani Dalla terra Di Dio Ma leggiamo Nel capitolo 1 Che Daniele Prese in cuor suo La decisione Di non contaminarsi Con i cibi Del re E la storia La sapete bene Furono sottoposti Ad una prova Tenuta Segreta Dal capo Delle Eunuchi Al quale Daniele Aveva detto Ti prego Metti i tuoi servi Alla prova Per dieci giorni Dacci da mangiare Legumi E da bere acqua In seguito Confronterai Il nostro aspetto Con l'aspetto Degli altri Se noti Qualche cosa Che non va Noi Ti promettiamo Che In qualche modo Ci adegueremo Alle vostre Regole Ma la Bibbia Dice che Allo scadere Dei dieci giorni L'aspetto Di Daniele E dei suoi tre amici Era Superiore All'aspetto Degli altri Giovani E noi Qui vogliamo Dare gloria Dio Perché Dio Onora Quelli Che L'onorano E Questa fu Una delle prime Esperienze Di Daniele In terra In terra Straniere Poi al capitolo 3 Gli amici Di Daniele Furono gettati Nella Fornace Ardente E lì sapete La storia La Bibbia Dice che Il re Chiese A quanti Avevano Gettato I tre Amici Ma scusate Ma Non vi avevo Ordinato Di gettarne Tre Ma io Ne vedo Quattro E il sembiante Del quarto Sembra Un figlio Degli dei E E questa fu L'ennesima Esperienza Di questi Giovani Che Videro Nel Crogiuolo Della Prova La gloria Di Dio In altre parole Fratelli e sorelle Dio ama Manifestare la sua Potenza Nel bel Mezzo Delle Difficoltà E vogliamo Spendere una parola Di incoraggiamento Per quanti si trovano A vivere una lotta Una prova In questo periodo Proprio nel momento Più difficile Dio manifesterà La sua bontà E la sua grazia Lo vogliamo glorificare insieme E se sfogliamo ancora I capitoli Seguenti Daniele viene gettato Nella fossa Dei leoni Il re Dario Non si dà posa Durante la notte Non riesce a dormire Interessante questa cosa Cioè Chi non avrebbe dovuto Dormire Era Daniele O no Invece a non poter dormire E il re Dario Allora si agita Durante la notte Poi si alza Vada Verso L'imboccatura Della Della fossa E dice a Daniele Daniele Ha potuto Il tuo signore Strapparti Dalle fauci Del leone E Daniele Rispose Al re Sì O mio signore Lì Dio Che servo Ha mandato I suoi angeli Che hanno chiuso La bocca Dei leoni L'ennesima Esperienza Di Daniele E che dire Delle visioni Che Daniele Ebbe E che dire Dei sogni Che fu in grado Di interpretare E che dire Della sua vita Che nonostante Visse in terra straniera Nonostante Si susseguirono Diversi re Pagani Daniele Rimase fedele E costante Nelle vie Di Dio A dimostrazione Che i tempi Possono cambiare Possono andare Da male In peggio Ma noi Con l'aiuto Di Dio Possiamo rimanere Fedeli Al Signore Esperienze Dicevo Fratelli Che hanno Non soltanto Segnato La vita Di Daniele Ma hanno Dato Alla storia Spirituale Di Daniele Valore Ciò che dà Valore Alla mia vita Spirituale Alla vostra vita Spirituale Sono le esperienze Con Dio E queste esperienze Diedero a Daniele Maggiore spessore Lo fecero diventare Un uomo forte Potente Nelle vie di Dio Perché lo troviamo Spesso A fare Esperienze Gloriose Col Signore Stasera vogliamo Riflettere Sullo spessore Della nostra Esperienza Di fede Vogliamo Che la nostra vita Acquisisca valore Ed è per questo Che vogliamo In maniera particolare Relazionarci Col Signore Incontrarci Con Dio E permettere Al Signore Di fare del bene Alla nostra vita Nel nostro testo Carico di insegnamenti E di particolari Verità Il Signore Questa sera Vuole aiutarci A riflettere Su una grande verità L'importanza Di comprendere La connessione Che esiste Tra la Rivelazione Di Dio E L'illuminazione Necessaria Per la nostra vita Stasera Su questo Vogliamo riflettere Insieme E poi pregheremo Il Signore La rivelazione E l'illuminazione Sono due opere Di Dio Imprescindibili Sono due opere Che non possono Rimanere Sconnesse Sono due opere Divine Compiute Dallo Spirito Santo In favore Del credente Per le quali Lo rendono Atto Ad affrontare Le prove Della vita E queste due opere Divine Rivelazione E illuminazione Rendono Il credente Maturo Nelle vie Del Signore La parola Il terzo anno Di Ciro Re di Persia Fu rivelata Una parola A Daniele Quanti stasera Hanno bisogno Di ricevere Una parola Del Signore Il terzo anno Di Ciro Re di Persia Fu rivelata Una parola A Daniele Chiamato Baltazar La parola E vera Perché colui Che l'ha pronunciata È il verace Il fedele Testimone La verità Fatta carne Egli fu attento Al messaggio E capì Il significato Della visione E in questo Primo versetto C'è L'oggetto Della nostra Meditazione Di questa sera Rivelazione E illuminazione Fu rivelata Fu rivelata Una parola A Daniele Sorelle e fratelli Fu rivelata Una parola A Daniele Rivelazione Egli fu attento Al messaggio E capì Il significato Della visione Illuminazione Il nostro Dio E' un Dio Che si rivela E il termine Fu rivelata Rivelare E' un termine Interessante Da una radice Che significa Denudare E' un termine Che usavano Quando Gli schiavi O i prigionieri Venivano deportati E venivano Spogliati Denudati Da un termine Appunto Che significa Denudare Spogliare Termine Che Ha il significato Anche di Scoprire Rimuovere Portare via Mostrare Togliere il velo Mettere a nudo Far conoscere Svelare In altre parole Il Signore Toglie il velo Il Signore Mostra a Daniele Qualcosa che Daniele Non avrebbe mai potuto Vedere A occhio nudo Il Signore Rivela Qualcosa A Daniele E quindi abbiamo Da un lato Dio che rivela E qui ci vuole Un gloria a Dio Un Dio che toglie Il velo Che rimuove L'ostacolo E che ci fa vedere Le cose con l'occhio Dello Spirito Abbiamo dall'auto Un Dio che rimuove La pietra Che toglie Che svela Che fa conoscere A noi La sua volontà E dall'altra parte Abbiamo un profeta E scritto Che è attento Al messaggio E capisce bene Il significato Della visione Fratelli Stasera non è un rimprovero Dio me ne guardi Ma è una Costatazione Molto spesso C'è un problema Nella nostra vita Che interrompe La rivelazione E l'illuminazione C'è un Un peccato Un problema Che interrompe Queste due opere Noi abbiamo bisogno Stasera Per l'aiuto Stasera Che ha profondamente Toccato il mio cuore In Luca Capitolo 18 E scritto Poi Gesù Prese con Sei dodici E disse loro Ecco Noi saliamo A Gerusalemme E saranno Compiute Riguardo al figlio Dell'uomo Tutte le cose Scritte dai profeti Perché Egli sarà Consegnato Ai pagani E sarà Schernito Oltraggiato E gli sputeranno Addosso E dopo averlo Flagellato Lo uccideranno Ma il terzo giorno Risusciterà E scritto Ed essi Non capirono Nulla Di tutto Quel discorso Che era Per loro Oscuro E non capivano Ciò che Gesù Voleva Dire Quanti stasera Vogliono chiedere Insieme a me Al Signore Signore nel nome Di Gesù Illumina il mio cuore Grazie per la tua Rivelazione Grazie per la tua Parola Ma dammi Grazie Signore di capire Il tuo messaggio Nella mia vita E questa è una Realtà Che si presenterà Più volte Nella Bibbia In verità In verità Vi dico Che chi non entra Per la porta Delle pecore Ma vi sale Da un'altra parte È un ladro È un brigante Ma colui Che entra Per la porta È il pastore Delle pecore A lui Apre il portinaio E le pecore Ascoltano la sua voce Ed egli chiama Le pecore Per nome Le conduce fuori Quando ha messo fuori Tutte le sue pecore Va davanti a loro E le pecore Lo seguono Perché conoscono La sua voce Ma un estraneo Non lo seguiranno Anzi Fuggiranno Da lui Perché non conoscono La voce Degli estranei Questa similitudine Disse loro Gesù Ma essi Non capirono Quali fossero Le cose Che diceva Loro Siamo chiamati Stasera A capire bene Qual è la volontà Di Dio Per la nostra vita Paolo diceva Agli Efesini Non agite Con leggerezza Ma cercate Di ben capire Quale sia La volontà Del Signore E lo scrittore Agli ebrei Quando parla Della necessità Della maturità cristiana Dirà Su questo argomento Avremmo molte cose Da dirvi Ma è difficile Spiegarle a voi Perché siete diventati Lenti nel comprendere Abbiamo bisogno Dell'aiuto Dello Spirito Santo Vi ricordate Filippo Quando incontra Leonuco Lo sentiva Che leggeva Il profeta Isaia Gli dirà Capisci Quello che Leggi E Leonuco Risponderà E come Potrei Se nessuno Mi Guida E io voglio Incoraggiarvi Stasera Fratelli e sorelle Perché uno Che ci guida Nel capire La rivelazione Noi ce l'abbiamo Ed è lo Spirito Santo Di Dio Che stasera E qui in mezzo a noi Per illuminarci Per darci Intelligenza Chiarezza Sulla volontà Del Signore Gloria a Dio Per la rivelazione Ma gloria a Dio Anche per L'illuminazione Per opera Dello Spirito Santo Che permette Alla credente Devoto Consacrato Di comprendere La sua volontà E di viverla Nella propria vita Stavo leggendo Prima del culto Abba Cuc Capitolo 2 Dove il profeta Dice Io starò Al mio posto Di guardia E starò Attento A tutto Quello Che il Signore Mi dirà Rivelazione E Illuminazione Spesso Queste due Opere Vengono Disgiunte Vengono Interrotte A causa Di qualcosa Stasera Noi vogliamo pregare Che il nostro Dio Che è colui che si rivela Possa continuare A rivelare La sua vita Alla nostra Alla nostra Persona Ma vogliamo anche pregare Che ognuno di noi Sia guidato E illuminato Dallo Spirito Del Signore Concludo Fratelli E preghiamo Quando il Signore Si rivela E noi Veniamo Illuminati Dallo Spirito Santo Vediamo Meglio Dio Lo voglio ripetere Quando lo Spirito Santo si rivela Quando Gesù Ci parla Quando Dio Rimuove Il velo E noi Veniamo Illuminati E comprendiamo Meglio La sua volontà Vediamo Meglio Dio Lo vediamo Meglio In tutta la sua bellezza Daniele dirà Il suo corpo Era come Crisolito La sua faccia Era sfolgorante I suoi occhi Come fiamme Di fuoco Avrà Una visione Migliore Della persona Di Dio Signore Stasera Abbiamo bisogno Di conoscere Meglio Gesù Abbiamo bisogno Di vederlo Meglio Di conoscerlo Meglio Di approfondire Meglio La nostra Esperienza Di fede Che dite Fratelli Vogliamo Conoscere Meglio Gesù E la rivelazione E l'illuminazione Ci permettono Di conoscere Personalmente Dio E di avere Di Lui Una conoscenza Profonda Maggiore Come la ebbe Il profeta Daniele Ma non solo Quando il Signore Si rivela E noi veniamo Illuminati Dio ci Benedice Infatti è scritto Il versetto 12 Non temere Daniele Perché dal Primo giorno Che ti mettesti In cuore Di capire E di umiliarti Davanti al tuo Dio Le tue parole Sono state udite E io Sono venuto A motivo Delle tue Parole Quanti stasera Hanno bisogno Che Dio Ascolti Il grido Del proprio cuore Che Dio Ascolti Le parole Così come Daniele Le pronunciò E Dio ci dice Stasera Dal primo giorno Che ti mettesti In cuore Di capire E di umiliarti Le tue parole Sono arrivate Davanti al trono Di Dio Ecco perché è importante La rivelazione Ma ecco perché è importante L'illuminazione La comprensione Della volontà Di Dio Perché queste due Opere divine Ci permettono Di conoscere Meglio Gesù Di essere Benedetti Da Gesù E concludo E di essere Fortificati Da Gesù Infatti è scritto Al versetto 18 e 19 Allora Nel Signore Molto spesso Queste due Opere Ripeto E concludo Vengono interrotte Ma qui leggiamo Fu Rivelata Una parola A Daniele Quanti 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 tra noi Vogliono Una parola Rivelata Da Dio Ma è scritto È scritto Egli Fu attento Al messaggio E capì Il significato Della visione Vogliamo chiedere A Dio stasera Signore Grazie perché Tu parli sempre Al mio cuore Ma ti prego Nel nome di Gesù Che io sperimenti L'illuminazione La guida Dello Spirito Santo Per comprendere La tua rivelazione Perché questo Mi permetterà Uno Di conoscere Meglio Gesù Due Di essere Benedetto Da Gesù Tre Di essere Fortificato Da Gesù Chiediamo il capo Preghiamo insieme Gloria al Signore Rivelazione E illuminazione Due realtà Imprescindibili Due opere Distinte Ma connesse Legate L'una All'altra Sì è vero Ci fu una rivelazione Da parte di Dio A Daniele Ma ci fu anche Un profeta Attento Che capì Il significato Della visione Vogliamo con tutto Il cuore Disporci Stasera A stare Attenti Alla parola Di Dio Vogliamo che Dio Si rivelia ancora Al nostro cuore Stasera Signore Come a Daniele Dammi una rivelazione E noi vogliamo Dare gloria a Dio Per la rivelazione Speciale Che è La parola Di Dio Ma spesso Questa parola Rimane incompresa Incompiuta Nella nostra vita Perché c'è qualcosa Che ci ostacola Nell'illuminazione Nella comprensione Del testo biblico O della volontà Di Dio Per la nostra vita Vogliamo pregare Stasera Mentre i giovani Intonano Un inno Di preghiera Vogliamo con tutto Il cuore adorare Il Signore E mentre ogni occhio È chiuso Ogni capo è chino Fratelli e sorelle Vogliamo pregare Che queste due opere Divine Siano vissute Nella nostra vita Rivelati Signore Ma ti prego Dammi un cuore Intelligente Signore Dammi una mente Saggia Signore Dammi luce Signore Illumina Il mio cuore Le famiglie Qui rappresentate Hanno bisogno Stasera Della luce Dello Spirito Santo Della guida Di Dio Vogliamo Essere accompagnati Nell'attempimento Della volontà Del Signore Per la nostra vita Dio si rivela Sì Ma Dio si rivela Ad un cuore Attento Ad un cuore Saggio Intelligente Ripieno Dello Spirito Dello Spirito Santo Gloria al Signore Lodo il Signore E mentre lo lodo Forza Sento il cuore E certezza Scende In me Lodo il Signore Ci alziamo tutti in piedi Forza Sento Al cuore Grazie Grazie Signore Stendo la tua mano Sento Sento La mia mano E la fe La sé E vittoria Sempre avrò E vittoria Alleluia Ricantiamola insieme Grazie E vittoria Lodo il Signore Lodo il Signore Forza Sento A noi E certezza A noi Sento A noi E il Alleluia, 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 gloria al Signore, gloria a Dio, vogliamo chiedere a Dio di rivelarsi al nostro cuore. Vi ringraziamo per aver scelto di ascoltare il programma Dai Nostri Culti. Possa il messaggio glorioso della parola di Dio trasformare la vostra vita e rendervi figli di Dio. Vi aspettiamo ad una nostra riunione di culto presso la Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia, di Prizzi, via Sandro Pertini. Dio vi benedica.